Salpa, da Genova la serie 1-2024-2025 del basket femminile con la riproposta formula dell'opening day che vedrà tutti i club protagonisti della massima serie giocate in un'unica re sede, l'RDS Stadium, un palasport da 5.000 posti, una festa, un spettacolo in terra e mare vigori per l'ultimo weekend di settembre che dunque coincide con il primo di partite giocate per il famigliastio e le concorrenti al titolo. La reire Venezia per prima, reduce la successo, depone il super trofeo, super coppa italiana, alzato a menesto proprio a speschi le rancioni 88 nel punteggio, nel primo duello tuttavia tutta la stagione appena iniziata e poi proprio quel teatro Sesto San Giovanni che oggi alle 17.15 costituisce il primo spoglio di affrontare. Ancora fuori dai giochi, Giuseppe e Giuseppe, tra le scredenze che hanno raggiunto l'esempionale playoff in W&E e in America vestendo le maglie di Minnesota e New York.